La birra di oggi è una birra circondata da un grandissimo hype e la cui fama la anticipa e in qualche modo ovviamente condiziona anche l'esperienza di bevuta. Stiamo parlando della Vest Vlitter in 12 tappo giallo. Vediamo quindi la scheda tecnica della birra più buona del mondo. Allora, la birrificio in questione è il Bruggerie Vest Vlitter in, siamo in Belgio, nella parte appunto meridionale del Belgio, all'interno dell'abbazia di Vest Vlitter in, a San Sixtus. La birra in questione si chiama appunto Vest Vlitter in 12 o anche tappo giallo, comunque l'unica appunto con il tappo giallo è la 12. È una quadruple, la più alcolica delle tre sorelle, 10,2 infatti il volume alcolico. Il prezzo di questa bottiglia, allora molto variabile, io in questo caso questa bottiglia l'ho presa nel pub dove lavoro, ma online il prezzo è piuttosto variabile, intorno ai 16, 17 euro, 18 euro in qualche caso. Prezzo ovviamente per quanto riguarda l'acquisto qui in Italia, varia molto in Belgio e poi ne parliamo un attimo. Bottiglia da 33 centilitri, bicchiere consigliato o la coppa trappista o eventualmente un pallone e non si tratta di un primo assaggio. Allora, innanzitutto pensavo di fare una piccola introduzione su questa birra, Tra l'altro, come anticipato nel video precedente, sto facendo anche un video per riassumere un po' il recente viaggio che ho fatto in Belgio e dove appunto ho visitato un po' di cose. Metterò poi, quando pubblicherò quel video, i link ai video delle birre che ho degustato e viceversa. Comunque intanto, parlando di Vesvletter, come dicevo, birra trappista. È il più piccolo monastero trappista belga. Si trova appunto nella locata di San Sixtus, è nella zona, diciamo, meridionale del Belgio, sud-ovest per essere precisi, si trova l'abazia, l'abazia molto piccola, all'interno della quale viene prodotta appunto questa birra. La Vesvletter ne è stata prodotta per un po' di anni all'interno dell'abazia, fino al 1946, quando la produzione è stata trasferita nel birrificio di San Bernardus, che è vicino appunto all'abazia, che ha prodotto, oltre alle proprie birre, anche questa quadruple. Utilizzava lo stesso ceppo di lievito che è stato fornito dai monaci e appunto la stessa ricetta. La cosa è continuata fino al 1992, quando praticamente è stata istituita l'associazione trappista, quella che oggi consente ai birrifici trappisti di applicare il famoso logo esagonale. Ebbene, tra le varie regole da rispettare per poter utilizzare quel brand, quel logo, c'è appunto che la produzione sia all'interno dell'abazia e la produzione sia condotta da monaci trappisti o eventualmente personale laico sotto il diretto controllo dei monaci. Questo ha fatto sì che San Bernardus non potesse più produrre questa birra. La ricetta è rimasta e infatti adesso San Bernardus ha più o meno una birra, la cui ricetta è uguale, la birra è diciamo molto molto simile o difficilmente distinguibile dalla Vesvla Deren 12, che è la appunto San Bernardus 12. Allora, fa un pacchetto San Bernardus, ora non lo posso aprire, però è la San Bernardus 12, di cui farò, o forse ho già registrato un breve video, che è appunto un'altra quadruple sempre prodotto da San Bernardus. Cosa interessante è che il logo appunto San Bernardus con questo che un tempo era, ora lo sposto un pochino, esatto, questo che un tempo era un monaco, da quando nel 1992 è stata istituita questa associazione dei monaci trappisti, non è più potuto, non è più potuto San Bernardus mettere l'immagine di un monaco, quindi anche sulla grafica sotto vedete si vede ancora la tonaca da frate, ma sopra è stato messo un vestito per così dire laico appunto. La ricetta quindi della 12 e San Bernardus e della Vesvla Deren è la stessa, ci sono però alcune differenze. Prima e tra tutto appunto i volumi produttivi, questo perché Vesvla Deren è appunto una bazia molto piccola, la più piccola, credo conti 10 o 12 monaci al suo interno in questo momento, e appunto produce una quantità molto limitata di birra. Precisamente la produzione si attesta sui 4.750 ettolitri anno, che corrispondono esattamente a 60.000 casse da 24 bottiglie. Solo in bottiglia viene la produzione, ovviamente non avviene, cioè non viene infustata o in keg o altro, solo in bottiglia e si può consumare ovviamente solo nel caffè di fronte alla bazia oppure può essere acquistata tecnicamente per il consumo personale, però sappiamo che viene anche importata e poi appunto rivenduta in bar, pub, beer shop, eccetera eccetera. Anche la procedura d'acquisto per questa birra è molto particolare perché per acquistarla bisogna telefonare, o meglio, fino all'anno scorso telefonare a un numero belga. Da quest'anno invece, se c'è stato un passo avanti, è possibile prenotarsi via fax o addirittura via mail. Nuove tecnologie all'interno della bazia permettono di prenotarsi via mail. Ovviamente bisogna comunicare il numero di targa nell'automobile con cui si andrà a ritirare la birra e giorno prestabilito, se ci si mette in coda con tutte le macchine, si vanno a ritirare le casse di Vesvleteren. Si possono ritirare un numero limitato di casse, sono massimo due casse per ogni targa, due casse per ogni tipo di birra, sono tra birra in produzione e massimo sei casse, quindi. Al di là quindi di accordi commerciali particolari, l'unico modo per prendere questa birra è questo, il che giustifica ovviamente anche il costo così elevato poi, una volta che la birra arriva in Italia. Piccola nota, la stessa birra acquistata nel caffè davanti alla bazia aveva un costo di... Ultima nota sul consumo relativo appunto a questa birra in loco, appunto ho avuto il piacere di assaggiarla nel pub, nel caffè anzi per utilizzare il termine corretto, si chiama Indevrede, che si trova proprio a pochi metri dall'altro fatto della strada rispetto alla bazia di San Sixtus. Sono piuttosto giovani le bottiglie che sono portate lì, voi potete riscavare la data di produzione in base alla data di scadenza, unica cosa che trovate scritta sulla bottiglia perché non ci sono etichette, c'è solo il tappo con il colore, il nome, il logo Vesvleteren e la data di scadenza. E leggendo online ho capito che per ricavare la data di produzione basta sottrare 5 anni la data di scadenza e quindi quella che ho avuto era del 2018, quindi aveva praticamente un anno quando l'ho degustata lo scorso mese. Quella che invece vorrei appunto degustare oggi anche per confrontare con un appunto molto giovane ha come data di scadenza il 2020, di conseguenza è stata imbuttigliata nel 2015, quindi è già ormai 4 anni, ci avviciniamo alla data di scadenza. Allora, facendo un po' di ricerche online ho trovato diverse teorie, nel senso che persone sostengono che sicuramente può essere bevuta dopo la data di scadenza ma che il momento migliore possa essere dopo la data indicata in bottiglia. Altre fonti anche un po' più affidabili secondo me indicano invece che il momento migliore per degustarla sia prima della data di scadenza, ovviamente indicata, e sia magari prima del terzo anno. Ora, non ho avuto il piacere di berne così tanto e fare tutti questi confronti anche per ovvie ragioni banalmente di tipo economiche, insomma bisogna un po' aver voglia di spendere tutti quei soldi per poter fare questa esperienza. Comunque appunto vorrei confrontarla con quella che ho bevuto poco fa che aveva più o meno un anno e questa che invece che ne ha già 4 abbondanti. Ultima nota appunto sull'estetica della bottiglia, come dicevo prima, non ha etichette, ha semplicemente questo anello in vetro dove c'è la scritta trappista, cosa in comune con le Westmal che hanno la stessa forma di bottiglia sempre con questo anello sporgente. Westmal ovviamente è etichettata, Westwater no. L'unica informazione che trovate appunto sul tappo è la data di scadenza, oltre al volume alcolico e l'indirizzo di dove viene prodotta questa birra. Esistono alcune foto di alcune birre di Westwateren dove si è rigrafato un numero 12 in numeri romani. Quelle foto risalgono a una edizione molto particolare del 98, del 96 più o meno, fatta dal monastero di Westwateren perché aveva bisogno di fondi per ristrutturare una parte di monastero. Allora commercializzò una piccola parte di queste bottiglie con quella serigrafia assieme al bicchiere in alcuni centri commerciali in Belgio convenzionati con il monastero. Ma è stata proprio una cosa una tantum che non è più stata fatta e normalmente le bottiglie di Westwateren non hanno la scritta. È solo quella edizione che tra l'altro leggevo sempre online che alcuni esperti dicano che fosse meno buona rispetto a questa perché è fatta, passatemi il termine, un po' di fretta per raccogliere i fondi che avevano bisogno di ristrutturare un pezzo di monastero. Detto ciò, la bottiglia di Westwateren non ha appunto la serigrafia 12 solitamente. Ultimo dettaglio, poi davvero passerò all'apertura di questa birra. La temperatura consigliata leggo che è intorno 8-10 gradi. Siccome però questa birra ha bisogno di stare un pochino all'aria per arearsi e far emergere meglio tutti i sentori e i profumi, uno dei consigli secondo me può essere rimuoverla dal frigorifero a 5 gradi versarla subito mentre sale un po' la temperatura farla già ossigenare. la verso molto piano perché è una birra che fa tantissimo, tantissimo fondo e non voglio versare anche i lieviti che già incominciano a vedersi. Guardate, c'è tutta questa parte qui è molto, molto torbida. Ora non posso avvicinarla più di tanto alla macchina fotografica ma si vede già proprio il lievito che si è condensato, si è addensato sul fondo e quindi decido in questo caso di non versarlo magari lo analizzerò dopo per avere quindi il prodotto pulito all'interno della sua coppa. Appunto come dicevo questa è una coppa trappista con questa forma classica aperta può andare bene per queste tipologie di birra può andare bene anche per Orval per esempio in alternativa vanno benissimo anche i palloni i bicchieri a pallone. Allora partendo dall'analisi visiva c'è una buona schiuma non molto persistente perché già si è smontata in questi primi secondi di un colore bianco non è un bianco pulito tende un pochino al beige o al colore panna tra l'altro c'è una piccola zona più scura dove è caduto già qualche qualche piccola parte di sedimento che c'era sul fondo della bottiglia comunque la schiuma ha una texture molto molto fine e molto compatta. La birra allora è un bellissimo colore ebano direi piuttosto trasparente devo dire che si vede perfettamente traverso e anzi con il faretto dietro vedo in il negativo praticamente il retro del logo da una parte all'altra del calice quindi è perfettamente trasparente non è assolutamente velata ovviamente ci sono dei riflessi più chiari incontro luce allora anche in questo caso credo che questa birra debba riposare ancora qualche secondo per arearsi al meglio comunque già c'è una discreta intensità non è elevatissima non me l'aspettavo più elevata perché ricordo che avevo era proprio questo di una birra con un'intensità non particolarmente forte e che forse ha una complessità un po' più interessante in bocca piuttosto che al naso non significa che non sia complessa anzi assolutamente ma l'intensità adesso mi riferivo solo all'intensità non è elevatissima ho aspettato qualche secondo come vedete la schiuma si è smontata ma non completamente questa è una caratteristica di molte birre si smonta il cappello ma resta comunque quello che in gergo a volte viene chiamato pizzo cioè questo leggero strato di schiuma una cosa molto simile l'hanno trattata per esempio con Orval che anche se la bevete molto lentamente cioè in tanto tempo comunque un filo di schiuma vi resterà fino alla fine e una cosa di questo tipo sta accadendo in questo momento ho aspettato un po' di tempo perché appunto si ossigenasse un pochino questa birra e provando a fare un'analisi olfattiva appunto intensità media o medio-bassa complessità sicuramente elevata provando a elencarmi mentalmente appunto tutti i vari descrittori cosa c'è? allora cosa c'è? fruttato sicuramente e il fruttato secondo me può ricordare l'uvetta l'uvetta è proprio quella da dolce da panettone ecco mi ricorda qualcosa infatti che ha a che fare con il panettone oltre al fruttato cosa c'è? sicuramente del caramellato c'è sicuramente un altro profumo ben evidente che a me piace tantissimo in queste birra che è la liquirizia si sente un filo di liquirizia ricordavo un sentore di caffè che non sento in questa e potrebbe essere una prima differenza con una vesvelatera in più giovane non sento questo tostato per esempio che invece ricordo appunto di aver sentito in quella più giovane altra cosa che si sente però è il cioccolato non è molto evidente ma qualcosa che mi ricorda il profumo di tavolette di cioccolato cioccolato fondente cioccolato scuro un pochino si sente qua altra cosa importantissima siamo a 10 gradi e 2 forse qualcosina in più perché appunto matura ancora un pochino questa birra comunque 10 gradi e non si sente per nulla ma per nulla dall'alcolico al naso quel profumo quel caratteristico odore di alcol non si percepisce al naso e per esperienza non si percepisce neanche in bocca perfettamente nascosto l'alcol come ci aspettavamo da questo stile c'è questa apertura molto molto dolce va un po' verso il miele e il caramello successivamente per quanto riguarda proprio i gusti allora per quanto riguarda il gusto appunto sicuramente dolce su tutto non c'è praticamente salato non c'è sapido non c'è acido c'è semplicemente dolce leggerissimo amaro sulla fine ma non può competere con il dolce non significa che non sia una birra equilibrata ma significa che la componente dolce è ovviamente prioritaria e più caratterizzante che tipo di dolce mi verrebbe appunto da dire miele miele caramello più o meno questa tipologia di dolce altra sensazione in bocca che accompagna tutta la bevuta è una discreta frizzantezza quindi c'è una buona carbonazione alcol impossibile da sentire davvero finché ovviamente non avete mandato giù tutto il sorso ma l'alcol è nascosto in maniera terribilmente fantastica non so davvero come dire perché è pericolosa una birra del genere non si sentono assolutamente i 10 gradi alcolici 10 e più si sente ovviamente la sensazione di calore poi una volta che la birra è scesa nello stomaco altra cosa interessante l'uppolo che è presente perché sicuramente la chiusura resta leggermente amara ma non è predominante e non è invadente e c'è questo finale secondo me anche in questo caso fantastico di liquirizia quindi l'amaro che c'è sulla fine è erbaceo e si è dato dal l'uppolo ma a me fa pensare anche che è un po' ai bastoncini di liquirizia e è perfetto secondo me come chiusura amaricante quella tipologia appunto di amarognolo verso un po' l'erba o appunto il rametto il bastoncino di liquirizia per fare alcuni confronti allora innanzitutto questa birra di questa annata con quella è un po' più giovane l'unica grossa differenza secondo me era quella nota tostato di caffè che non sento in questa mentre per quanto riguarda in bocca mi sembrano molto simili forse questa è leggermente più carbonata però potrebbe dipendere da come è stata versata nel bicchiere però ammetto che a memoria non riuscirei a fare altre distinzioni andrebbero ovviamente assaggiate assieme e contemporaneamente confrontate non bevute a distanza di un mese altro confronto che però possiamo fare con la Wessvletter è con la San Bernardus 12 che è appunto la stessa recetta prodotta in un altro birrificio allora sicuramente la San Bernardus 12 è molto molto simile e anche in questo caso potrebbe essere difficile da confrontare soprattutto perché ho per esempio bevuto una San Bernardus freschissima acquistata in loco e bevuta pochi un paio di mesi dopo l'imbottigliamento e aveva certe caratteristiche e ho acquistato una San Bernardus nella grande distribuzione che ovviamente risente di tanti altri problemi legati alla distribuzione prima su tra tutti era una minore intensità di soprattutto la parte olfattiva quindi è difficile fare un confronto così generale andrebbero confrontate le singole bottiglie di quel periodo acquistate in quel modo eccetera eccetera detto ciò siccome sono un grandissimo fan delle quadruple un consiglio che mi sento di dare a tutti è la San Bernardus è il modo più economico per bere una birra così buona cioè la Vesvetteren costa tanto e infatti di Vesvetteren ne ho bevute davvero poche mentre la San Bernardus ha già un prezzo molto più accessibile e quindi secondo me uno dei consigli può essere per gli amanti del genere di consumare la San Bernardus che è più semplice da recuperare il sapore per me quasi indistinguibile e ci si può bere una buona birra a un prezzo appunto accessibile cosa che invece non è per la Vesvetteren che ha davvero dei prezzi se consumata con Italia abbastanza proibitivi e appunto la cosa che mi verrebbe da domandare ne vale la pena ma soprattutto sì ne vale la pena per l'occasione una tantum sicuramente ma soprattutto il prezzo è giustificato dal gusto dall'hype da un mix delle cose io propenderai per la la seconda cioè da un mix tra le due cose sicuramente c'è tantissimo hype c'è una fama che circonda già questa birra prima ancora di essere bevuta che la rende già buona appunto prima ancora che finisce nel bicchiere però appunto ha dei prezzi decisamente fuori riscala rispetto alle altre quindi per una buona quadru per il da consumare tutti i giorni secondo me la San Bernardo è ottima con cui appunto condivide ricetta c'è po' di lievito appunto fino al 92 era prodotta da San Bernardo quindi è davvero la stessa quasi la stessa birra possiamo dire mentre ovviamente per occasioni un po' più particolari può forse valere la pena spendere una quantità di denaro un po' più importante per consumare la ben più famosa era rara a questo punto Westwlettere queste erano diciamo alcune delle mie personalissime considerazioni su quella che in molti definiscono una delle birre più buone del mondo se non la birra più buona al mondo la Westwlettere 12 scolto la Westwlettere la Westwlettere Grazie a tutti.